ciao ragazzi bentornati nel mio canale io sono miss giulia e oggi sono tutta rossa allora prima stavo parlando per sei minuti da sola e alla fine mi sono resa conto che non avevo resa pubblica la live quindi parlavo da sola si sta collegando qualcuno qualcuno mi fa compagnia c'è nessuno o siete tutte quante a ninna dai su ci sono tre persone collegate ciao ciao a tutte io oggi sono tutta un tutta un fuoco come state a parte il caldo ciao maria ciao anna come state ragazze era da tanto che non facevo una live mi mancava non lo so questa sensazione di questa sensazione friccicarella allora come va ciao mary ciao a tutte siete in sei al momento ciao allora ragazzi è arrivato questo pacchettozzo adoro quando arrivano i pacchetti da bibi craft dopo vi mostro cosa ovviamente ho scelto e poi ci facciamo come al solito le nostre quattro chiacchiere quattro lunghe chiacchiere allora tutto bene parte il caldo si infatti si muove si muore io ho anche il faretto puntato nell'occhio se vedete che strizzo gli occhi perché non perché voglio farvi l'occhiolino ma pure volendo vi faccio l'occhiolino ma perché c'ho la luce puntata nell'occhio quindi ogni tanto faccio così sbarello allora scarta la carta scarta la carta sì sì adesso scarto tutto anche se qualcosina giù sbirciato sinceramente perché già lo vedete un pochettino aperto e un bel pacchetto lo bello inizio a scartusciare allora questi bibi craft non so dove mettere la roba aspettate che sposto un po di roba mi sopportate anche l'acqua è tutto in tinta tutto rosso si vede che sono impazzita con rosso aspettate tolgo un po di roba da dentro il pruriball ho scelto così molto molto carina aspettate questa è la bolla questa è la camisetta che ho comprato da H&M per chi si fosse perso che ne so il try on all e che scato il pruriball ve lo lascio o qui o qui allora vi faccio vedere un prodotto per volta non mi ritolgo davanti perché sennò fuo casino allora quella ciao marina saria grazie sì il rosso mi mi da passione fuoco non lo so non mi piace il colore rosso come mi sta addosso mi sento non lo so sicura di me stessa col rosso sembra strana sta cosa ma mi sento una gniacchera ok l'aspetto di di darmi delle aria comunque primo prodottino ho preso le scatoline non so se si nota il codicino eccolo qua queste scatole raga mi stanno salvando la vita perché sto prendendo una marea di rocaille 11 0 15 0 8 0 grazie un baciotto volante mi stanno proprio proprio salvando la vita perché c'entra una marea di roba qua dentro ne ho prese vedete ogni cosino è da quattro e c'entrano davvero tante rocaille infatti ho già giustato tutte le rocaille siccome sono una maniaca ho messo in un contenitore tutte le opac in un altro tutte le permanent finish ce le sto dividendo per colorazioni per colorazione tutte anche noi numeretti dal più piccolo al più grande così vabbè che la metto a fa dentro comunque ne sono due aspettate che vi prendo anche il cellulare così vi dico anche i prezzi e tutto così facciamo una cosa profession allora un attimino eh che arrivo subito baby craft eccolo qua comunque questo è arrivato velocissimo sto pacco ieri mi hanno detto che che era stato spedito e stamattina è arrivato non so se cioè se aveva il pacco il pepe al sedere questo pacco comunque è stato davvero velocissimo non ho pagato ovviamente ehm il la dogana assolutamente perché molte me lo chiedono e quindi non l'ho assolutamente pagata la dogana e poi l'azienda ovviamente mi dà a disposizione un budget e da spendere sul sito allora queste adesso costano due scatoline dodici euro e zero quattro non so se vi fidate non si vede niente mi piace la mia cover da un cavolo passa all'altro comunque sono davvero carinissima anche se come diceva anche eh se non ero Luana i prezzi di queste scatoline sono leggermente aumentati perché eh prima il set era cioè il set da tre scatole lo pagavo lo pagavo di meno di 12 euro però io ugualmente le le prendo perché mi sono comode cioè e poi sono fatte bene si chiudono bene i contenitori anche sono sono sigillati ogni singolo vedete ogni singolo cosino è sigillato a parte mi trovo benissimo e quindi per me ci valgono anche se hanno aumentato un pochettino i prezzi ovviamente ultimamente hanno aumentato un po' tutti quanti i prezzi per per il covid e tutto aspettate che vi mostro il secondo prodottino allora vi prendo questo qua allora ho preso questi metto la manina dietro così si vede bene il codicino a parte che poi quando finisco la live vi metterò tutti i link giù nell'info box queste sono delle micro nappine sono carinissime e sicuramente mi farò qualcosina con le nappine rosse sicuro proprio e queste costano aspettate sono 100 nappine misura vi dico anche la misura sempre se si apre la pagina attendiamo la pagina allora queste sono misura 16 c'è scritto 16-22 mm sono davvero piccoline piccoline ve ne mostro qualcuna e hanno anche l'anellino sono carinissime sono piccine piccate queste ci vanno tanto con le catene no le catene le lavorazioni in uncinetto con i cristalli e poi qua e là mettere qualche qualche nappina di queste sono carinissime ciao Roberta allora sì ok lo salutavo tutti stavo guardando i commenti perché per un po' non li ho guardati e sono carini ci sono bianchi ci sono rosse grigie celesti lilla rosa ci sono un bel po' di colori turchese tiffany non so se si vede provo a togliermi io eccole qua aspetta Roby che ti leggo ti ho mandato un messaggio su Messenger poi ne puoi rispondi ok Roby ti rispondo dopo con calma perché adesso ovviamente non posso ascoltarlo adesso il messaggio sennò dopo diventa una cosa di dominio di dominio pubblico allora questo è il secondo prodottino poi ho preso queste queste sono ed eccole qua sono dei non mi ricordo il nome beh cioè è il caldo non so se è il caldo ma sto un po' sbalvolata i cosi per gli orecchini come si chiamano? suggerimenti? gli orecchini con la base piatta in acciaio aspettate eccola qua sono fatti in questo modo e dietro si aprono così tipo ok in questo modo qui perni brava grazie per il suggerimento io sto un po' ho detto sto un po' sbalvolata oggi questi sono esattamente vi dico subito quanti pezzi sono 100 pezzi sono per il dischetto da 12 mm quindi va benissimo un cabochon da 12 mm ma io ho un'idea in mente che faremo appunto la svilupperò appunto per il tutorial in collaborazione e questi costano esattamente un attimino che vi dico il prezzo costano 12 dollari e 23 in questo preciso momento che sono in promozione per 100 pezzi ottimo il caldo sta dando la testa pure a me e tu non stai facendo la live Roberta pensa a me in questo momento con il caldo i capelli che sembrano aperonsolo che sono lunghissimi la luce sparavasciata nell'occhio non tira un filino di aria e quindi perché ti sei messa a fare la live perché mi mancava mi mancava fare la live sperando che dopo youtube me la salvi comunque il codice non so se ve l'ho fatto vedere è questo qui sono in acciaio materiale acciaio e poi l'ho presi anche per i rivoli vi mostro il codicino eccolo qua e questo quanti pezzi sono? mi sembra sempre 100 pezzi sì sono 100 pezzi questi sono costati 10 euro e 13 per i rivoli da 12 mm questi qui perché anche per l'estate io realizzo anche cosine molto semplici per le mie clienti e ovviamente questi orecchini con un bel rivoli sbaroschi tutto bello colorato fanno la loro porca figura poi volendo sotto si può anche agganciare una creazione perché no la si fa passare all'interno qui e la si appoggia in questo incavo qui in basso quindi volendo può essere anche utilizzata in doppio cioè doppio modo e la voglia fare orecchini mi fa piacere che ti mancava anche te Maria Rosaria così almeno ci facciamo compagnia a vicenda questo è il codicino sempre che si vede ed è sempre in acciaio poi ho ripreso queste qui che sono le perle in onisce da 6 mm queste gialle avevo presi anche cioè talmente che mi piacciono queste perle che le riprendo un filo ce lo butto sempre all'interno della 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 collaborazione cioè molto molto carino anche così oppure realizzando i braccialetti se vabbè è andato è andato più giù anche realizzando i braccialetti è molto molto carino anche da uomo i poveri maschietti non li calcoliamo mai almeno io e faccio poche cose per i maschietti quindi le perle in onisce sono bellissime poi ho preso queste che sono 6 rotoli in raffia aspettate non mi ricordo gli onici se vi ho detto il prezzo è 2 secondi non mi avevo detto questi costano il filo sono grado a A e costano 3 euro e 0 2 e sono ottime invece per quanto riguarda il mix color raffia questo l'ho pagato ho pagato cioè sempre con la collaborazione 2 euro e 15 ed è presente esattamente il verde il rosso adoro ciao Anna Maria ripeto devo ripetere tutto aspetta mo finisco e poi ripeto faccio tipo e poi ho preso questi ultimi due prodotti aspettate mi stanno a calcare i prodotti da letto aspettate che ritorno e eccoci qua poi ho preso queste due box che adesso devo aprire apro con la matita non ho un taglierino a portata di mano queste due box e eccole qua allora questo vi mostro in primis questo qui questo è il codicino questi sono quegli elementi aspetta Claudia che ti leggo i maschietti che conosco sono pisigenti delle femminucce ovvero voglio le mini ma un circo infatti anche cioè qualcuno mi ha commissionato qualcosa ma principalmente sono cose molto molto wow tipo il circo che dicevi tu Claudia papaparaparapapar circo allora questi dicevo sono degli elementi non mi ricordo il materiale di questo un attimino che rimembro rinfresco un po' la memoria perché io scordo tutto sono smemorata allora questi si sono in ottone sono esattamente 160 pezzi per 8 forme in 2 diversi colori quindi vi mostro tutti non tutti i 160 ma vi mostro le 8 forme diverse allora sempre la scatolina e poi si apre in questo modo allora meno male che sono divisi bravo BB craft bravo allora ci sono i quadrati in due colorazioni non so se si nota c'è sia argento che oro ci sono gli ovali sempre sia argento sia argento che oro oddio quanto è bello questo tutto onduleto onduleto che carino questo tutto ondulato tondo però col bordo ondulato poi c'è anche tondo liscio carinissimo anche questo ci sono i cuoricini i cuoricini cuoriciosi e poi ci sono i rombetti ve li mostro ad uno ad uno perché così non si sarà visto una cippa lippa allora questo è il rombino questi vanno bene sia per il break stitch ma anche per le lavorazioni in wire li trovo davvero molto carini e versatili poi vi mostrerò anche un modellino semplicissimo che sto vendendo tantissimo fatto appunto con il wire poi c'è il tondo poi vi mostro anche il cuoricino ed eccolo qui ci metto la mano dietro poi quello ondulato questo mi piace da morire cioè tanto 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 è bellissimo questo ondulato poi è particolare cioè così non li ho mai visti neanche negli altri negozi così questa forma ondulata davvero interessante questo set poi c'è questa gocciolina eccola qua e poi aspetta ok Robby quando vuoi poi c'è l'ovale come vi dicevo prima c'è sia ovviamente nella bustina sia argento che oro poi l'ottone volendo si può anche tranquillamente pulire questo è il quadratino ed infine il triangoletto il triangolo è carinissimo e questo me lo immagino anche con la resina molto molto carino oppure triangolo perno e qui sotto una frangettina fatta con i chiodini con gli orecchini davvero molto leggeri estivi carinissimi un po' chandelier perché no aspettate che mi sono perso un triangolo il triangolo delle brevudo e niente vengono tutti quanti inviati in questa bellissima scatolina che adesso ha preso aria e non si chiude più ecco qua in questo modo davvero carinissimo questo questo ve lo consiglio tanto e il prezzo vi dico anche il prezzo un attimino questo costa per 160 pezzi 10 euro e 04 e ha voglia a fare lavoretti con questo perché davvero vengono tantissime cosine interessanti poi se vi occorre il link di qualsiasi di qualsiasi cosina oddio sto sudando uff dai che capelli li devo andare a tagliare il 7 li devo andare a tagliare mancano 6 giorni mi faccio uno di quei tagli alla per andare a militare corto corto comunque dicevo per qualsiasi articolo poi vi metterò il link giù sotto nell'info box poi l'ultimo prodottino è questo qui se non ce ne sono altri no questo qui è l'ultimo poi ci ci mettiamo a parlucchiare stavo staffando il il coso questo è il codicino e questi non lo so perché li ho presi nel senso so cosa realizzare perché sempre se ce la faccio ad aprirlo perché li hai presi perché sono carini in pratica sono fatti sto prendendo anche già l'inserzione così vi dico anche i prezzi le misure e tutto ok sono il legno dipinto sono 100 pezzi e sono dei donuts mi ricordano tanto i cirios i cirios colorati miel pops e città e choc città e choc sono troppo carini perché li hai presi i donuts perché sono troppo carini cioè vi immaginate una collanina con tutti questi donuts tutti quanti colorati come è carina ce ne sono tantissimi c'è fucsia arancio giallo rosa c'è anche verde verde prato e questo blu è anche molto bello cioè ci sono tantissimi colori carini carini e questo c'ho anche un progettino già nella mia mente malata wow sono carini carini e i cirios sono costati un attimino che vi dico il prezzetto allora il foro è da 8 mm misurano 15 x 4 mm e costano un attimino che vi vedo quanto costano 3 euro e 61 wow adoro i cirios e niente questi erano tutti i prodottini che ho preso da bbcraft sì li ho presi tutti sì li ho fatti vedere tutti devo fare qualcosa di fucsia e rosso prossimamente fare qualcosa di fucsia e rosso così lo metto abbinato a questa camisetta di H&M e niente ragazze io vi lascio un bacione grande e grazie per essere state qui con me ciao belle buona serata a tutte buona serata a tutte buona serata a tutte